L'esperienza del Salone del Mobile di Mosca di quest'anno è stata particolarmente sorprendente sotto ogni punto di vista. Erano quattro anni che mancavo dalla città e innanzitutto ho trovato la città completamente cambiata. Il nuovo allestimento comune e altro hanno dato all'interno della fiera e soprattutto al Salone una visibilità e una qualità che devo dire è abbastanza vicina a quello che i visitatori possono trovare quando vengono a Milano per esiderare il nostro Salone del Mobile. La cosa che mi ha poi soprattutto sorpreso è vedere come nel giro di quattro anni l'atteggiamento dei russi riguardo al design, il design made in Italy soprattutto, si è completamente cambiato. Quattro anni fa era ancora, per quanto mi ricordo, una fiera molto legata alla parte del classico e comunque del decorativo e ornamentale. Quest'anno era diventato veramente molto simile a quello che è per noi oggi il concetto di un mobile contemporaneo e di un modo di vita contemporaneo, di design che è quello che cerchiamo appunto di trasmettere tramite il Salone del Mobile.